E si ricomincia, non c'è memoria sufficiente in questo mondo. Ecco, scusateci per il nuovo problema tecnico, ma sapete, prepara un video eccellente, intanto non ci sono minuti di recupero. Ripetiamo che il Real Madrid sta vincendo per 3-1 e ora l'arbitro fischia la fine, il Real Madrid vince 3-1 la seconda giornata di Champions. Ora vedete i risultati, il possesso palle a 55% per il Real Madrid, 45% per il Real Madrid. Ripetiamo i gol, se il nostro registra, prego, Marcello, terzo minuto, in tiro imparabile, Rete. Ripetiamo il pareggio di Abate, e Robini anticipa a Casillas, per il pareggio nel Milan nel 14-15. minuto, poi Cristiano Ronaldo, no, questa deve essere un'azione con il tiro che sfiora. Sfiora. No. Ecco, questo è il gol di Cristiano Ronaldo, passaggio di Mesutoshin, Cristiano Ronaldo si accentra e fa esplodere una grande bomba sotto il 7, che non lascia scampo. Benzi, stiamo avviati. E poi vediamo il terzo gol, il 40esimo minuto, Benzema, per Iguain, che batte avviati. E vediamo il risultanza. Vi vediamo un gol. Cinque nozomi, Iguain. Ecco, vediamo, ora vi riprofondiamo gli highlights, vediamo questi tiri, ma Iguain. E' finita, eh? Ah, vedete, ho visto e visto i video qui. E' finita. Sì. Su, PES, 12. Muore. Ricordiamoci.